Isola dei Famosi, Gianmarco Nestini e Nardu negano di essere stati esclusi. È stato da poco ufficializzato il cast dell'Isola dei Famosi che non vedrà per quest'anno la partecipazione di Gianmarco Nestini. Elga e Serena e Nardu. Stando ai rumor circolati in rete, i tre concorrenti sarebbero stati esclusi all'ultimo momento per timore di una deriva trash all'interno del programma ma in un'intervista a fanpage. IT, ripresa anche da Novella 2000, i diretti interessati hanno smentito contatti per l'approdo in Honduras. In merito alla mancata partecipazione dei tre VIP, in molti hanno ipotizzato un intervento di Pier Silvio Berlusconi sulla falsa riga di quanto fatto con il grande fratello VIP7 dovuto al timore di una deriva trash delle reality show. L'editore insomma avrebbe optato per una linea sobria e in linea con il decoro dovuto ad un prime time televisivo. Ma i diretti interessati hanno smentito queste voci evidenziando come le ipotesi di una loro possibile partecipazione fossero del tutto infondate. Contattata da fanpage IT, Serena e Nardu ha fatto chiarezza sulle voci di una sua presunta esclusione all'ultimo momento dall'Isola dei Famosi.